grandi ragazzi nuova giornata di pesca su consiglio del grande davide dominighini siamo venuti qui in val di sole e stiamo risalendo il torrente vermigliana andiamo un po a vedere questa zona bellissima e vediamo se riusciamo a fare qualche cattura ben bella bellissima spettacolo spettacolo ragazzi grazie ai consigli di davide che ci ha fatto conoscere questo posto abbiamo fatto una bella cattura prima una c'è sfuggita è arrivata la seconda stiamo pescando con questa canna della shimano una via flash e ci stiamo divertendo vediamo se arriva qualcosa corrente stupendo e oggi inauguriamo anche i waters e gli scarponi della shimano bellissimi il spettacolo chiodati Grazie. 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 E' già arrivata un'altra bella trotella. Grazie. Grazie. Grazie.